Si sono completati gli incontri per quanto riguarda la quindicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. I due anticipi erano quelli del Bentegodi tra il Chievo ed il Genua. Il primo è finito 0-0 senza sussolti particolari. Invece, sorpresa, nell'anticipo delle 20.45 al Friuli, l'Udinese ha battuto il Bologna per una rete a zero. Dopo un primo tempo così così nella ripresa arrivano le occasioni migliori ed il gol arriva a 26 secondi dalla fine 93esimo grazie al gol di Danilo. Questi i risultati per esteso della giornata. Napoli-Inter 3-0, Juventus-Atalanta 3-1, Milan-Crotone 2-1, Roma-Roma-Battelazio 2-0, Peschera-Cagliari 1-1, Sampdoria-Torino 2-0, Sassuolo-Empoli 3-0, Fiorentina-Palermo 2-1, Chievo-Genua 0-0, Udinese-Bologna 1-0. La classifica, Juventus 36 punti, Roma-Milan 32, Napoli-Lazio-Atalanta 28, Torino 25, Fiorentina 23, Sampdoria 22, Inter 21, Genua-Cagliari 20, Chievo 19, Udinese 18, Sassuolo 17, Bologna 16, Empoli 10, Pescara 8. Chiudono la classifica, Crotone e Palermo a quota 6.